L'idea del porto turistico di Imperia gestito da mano pubblica piace a tutti e ha trovato quindi pieno consenso nel Consiglio Comunale di ieri sera. La delibera di indirizzo proposta dal sindaco Claudio Scaiola ha visto un voto favorevole unanime. Il primo cittadino ha spiegato che sarà lago Imperia a gestire lo scalo con spirito privatistico, dimostrando di avere le capacità economiche per far ripartire i lavori e tutelare i titolari dei posti barca che hanno investito nello scalo. Per questo sarà necessaria la predisposizione di un piano finanziario sostenibile. Luca Lanteri di Progetto Imperia ha proposto un emendamento per modificare la destinazione residenziale delle palazzine incompiute in una destinazione volta alla cantieristica e ai servizi commerciali e ricettivi. L'emendamento per una questione tecnica non ha potuto essere accolto, ma la maggioranza ha assunto tale indicazione sotto forma di raccomandazione. Ha provato non ha limitato anche l'adeguamento del piano comunale di protezione civile, illustrato dall'assessore Simone Vassallo e dai professionisti che ne hanno curato la redazione, i geologi Simone Pittaluga e Claudio Geranio e l'architetto Francesca Fabiano. Ha provata inoltre senza voti contrari la delibera proposta dal vice sindaco e assessore all'urbanistica Giuseppe Fossati di adozione della disciplina urbanistica comunale per il recupero ai fini abitativi di sottotetti e locali accessori, così come determinato da un'apposita legge regionale.